Sappiate che noi, come ci vedete adesso, nessuno è al proprio strumento, perché il bassista è un chitarrista, il chitarrista è un bassista, il batterista è un chitarrista, il cantante è un batterista. Quindi magari ogni tanto non siamo perfetti nell'esecuzione della canzone, ma noi ci mettiamo tutta l'anima e tutto il cuore per riuscire a farvi divertire. Grazie E questo è quello che conta per noi, vedervi qui e divertirvi, non c'è niente di più bello. E eravamo qui e casualmente hanno cominciato a fare i quattro accordi ed è nata questa canzone, che parla appunto di un nostro band, nostro membro della band, quello che in questo momento è andato a pisciare. Quindi devo tenere lunghe le presentazioni fino a che lui non torna. Ovviamente la canzone, tanti la conoscono, si chiama Gisela Barzassi. Io ve l'ho detto che ci impegava tanto, eh. Io mi avevo appisati. Eccolo qui. Il mio amico bello